Una camionabile che attraverso un quartiere residenziale a ridosso dell'Argine e del Bacchiglione. Non ci stanno i residenti di Via l'Italia e Via Dante che si sono rivolti alla nostra redazione. Tanti i loro timori. Eccoli. No, noi andiamo sempre avanti perché abbiamo visto le sue robe valide e la salute nostra. Noi andiamo avanti perché a farla là, non so. A me porta via quasi tutto. Il giardino, l'orto, a me porta via tutto. Paure che abbiamo girato al sindaco di Bovolenta, Anna Pittarello, che fa il punto della situazione. La viabilità di Bovolenta è una cosa che va discussa da 40 anni e dobbiamo trovare una soluzione che rappresenta in tutti i programmi elettorali e anche nel nostro. La soluzione abbiamo trovato con la provincia di Padova perché quella è una viabilità provinciale e proprio di realizzarla insieme con gli altri enti, genio civile, sovrintendenza. Abbiamo individuato quell'area. Ovviamente anche la piazza Accademia è un catino e va salvaguardata perché è il nostro centro storico. E questo è il punto. Il cuore della viabilità del comune è il ponte blu a ridosso del centro storico, ponte che tra alcuni mesi sarà chiuso per essere ristrutturato, dividendo in due il territorio. Sono i cittadini a chiedere risposte adeguate. Dobbiamo realizzare uno sviluppo del paese, ci sono le nostre aziende produttive che sono in espansione e dobbiamo dare delle risposte di servizi alle nostre aziende. Non c'è proprio altro modo di risolvere il problema? C'era la prevista Labo Volentana e un'altra collocazione, però ci sono tempi più lunghi, molti più espropri e costi molti più alti. Del resto è stata la soprintendenza a bloccare possibili costruzioni di un nuovo ponte per problemi di consumo di suolo. Difficile fare sintesi, ma la porta del sindaco, che ribadisce come l'opera sia in carico alla provincia, resta aperta. Io sono qui a disposizione, l'amministrazione di Bovolenta è a disposizione di tutti i cittadini di Bovolenta e anche del quartiere di Via l'Italia e Via Dante.